Mamma, 108 notifiche. Oh, 109. Dei bambini di otto anni? Che si baciano in classe durante la lezione? No, sì. Le maestre dove erano? Ditemelo voi. Ma con la lingua? Grazie. Ma non dovevate? Noi non mangiamo derivati da animali. Cioè, latte, guapo, zuccherò. No, no, no. È proprio una torta all'acqua. Poi noi siamo quello che mangiamo. Ma infatti mi somiglia. In che senso? Tennis! Ci ho già detto che non ti dicono queste cose, capito? Va bene l'espressività, ma dovresti un po' riprendere in mano la situazione. Ogni volta che ti guardo penso a truffo. A 300 colpi, ragazzo sul bagno. Una mia amica della palestra mi ha chiesto di fargli la forma di freccia. Tu, Ilaria, come ce l'hai? Classica. Bella rigogliosa! Vuoi che ti dono un giustatino? Non è biologico. No, ti prego. Ti faccio! Chi è stato? È stato lui. Cos'è che dici? Guarda che io e mio marito queste cose non le insegniamo a nostra figlia. Hai capito? Cosa te ne hanno avuto? Cosa mi spieghi che cazzo di problema c'hai tu? Che cazzo di problema c'avete tutti quanti, me lo dite? Oppa! Ti fa qualcosa! Ti fa qualcosa! Ti fa qualcosa! Brava! Brava! Io ho capito che sarà molto, molto difficile fare peggio di quello che avete fatto voi con i vostri figli. Quando vedo te, quando vedo te, quando amo te. In questo senso quanto dobbiamo al cinema di Marisa usciva. Tanto?